Il nostro pacco veicoli è formato da 65 Premium, 7 Magnum, 25 Iveco e 12 Volvo. I nostri veicoli percorrono in media dai 13.000 ai 14.000 km mensili. Abbiamo anche una ventina di mezzi con equipaggio doppio che percorrono circa 19.000-20.000 km al mese. Della nostra azienda sono state formate tre persone. Queste tre persone hanno trasmesso ad altri autisti questo programma e finora l'abbiamo trasmesso a circa 20-25 autisti. Contiamo entro la fine dell'anno di trasmetterla a tutti, anche perché abbiamo un problema che noi gli autisti non li vediamo giornalmente e non rientrano tutti a fine settimana. La formazione dell'Ottifuel ha portato due risultati importanti. Il primo è il risparmio di consumo di gasolio e il secondo è sicurezza e tranquillità da parte dell'autista per una guida più rilassata. In termini di consumo di gasolio, dai primi risultati che ho in mano e sui primi 20-25 autisti, abbiamo avuto un risparmio di circa il 2% di gasolio. Il risparmio totale della mia azienda, una volta che abbiamo formato tutti i dipendenti, dovrebbe essere di circa 10.000 litri al mese, corrispondente a 120.000 litri all'anno, quindi un margine superiore utile di 100.000 euro circa all'anno in più. Il risparmio di gasolio è un'esplice di gasolio e un'esplice di gasolio. Grazie a tutti.